Marco Mauri, amministratore delegato di Decra Italia, cosa significa per Decra un salone come l'EICMA? Salone importantissimo, Decra è molto attiva sul lato sicurezza e soprattutto inaugura qui al Salone di Milano e festeggia il primato di primo servizio tecnico italiano estero con filiale in Italia. Offriamo anche i corsi di guida sicura per ciclomotori e motocicli per i 14 anni e per i neopatentati e sono nuovi corsi che sono in accordo rispetto ai requisiti richiesti nei prossimi tre anni. Ci togliamo dal ruolo istituzionale, ci dica cosa le è piaciuto di questo salone? Dopo dieci anni alla ricerca e sviluppo Moto Guzzi, diciamo che il cuore è un pezzo lì. La seconda metà del cuore è allo stand Ducati, comunque vedo che anche gli altri costruttori stanno facendo dei grossi sforzi per superare il mercato, ma soprattutto vedo molto vitale anche il monto degli accessori e il mondo della componentistica italiana che è sempre stata ai vertici della categoria. L'ho chiesto a tutti, lo chiedo anche a lei, a chiunque lo diciamo, venite all'EICMA perché? Chi ama la moto viene all'EICMA.